L'anima della festa perché sono creativa e originale. L'anima della festa perché sono creativa e originale. L'orange è un colore molto energetico. Le persone che piace l'orange tendono a essere buona natura, amici e sociabile, che è una cosa che viene chiaramente a tutti i amici di Lamborghini. Probabilmente avrebbe il rombo della nostra Orus. Sono sicuro affidabile. Chi lo sa. Il grigio è un colore medio. Le persone che chiedono il grigio sono eleganti, ma anche discreti. Le persone che chiedono il grigio sono molto attenzionanti, e sono molto attenzionanti, e sono molto attenzionanti. L'orange è un lavoro di arte. Il colore di l'argete non cambia il valore di l'argete. È incredibile che Lamborghini offrano la quantità di colore che fanno. E' un modo meraviglioso di dirci. Colore dicono molto a chi siamo e dove stiamo. Per un momento. È ancora. Cazier she,